Questo è il primo modello di iPhone. Se avete ancora questo telefono è il momento di passare iPhone 16 Pro. Bentornati su Recensioni per Scegliere, io sono Enrico e oggi parliamo di iPhone 16 Pro. Prima di vedere però tutte le novità fatemi sapere con un commento qua sotto se anche voi state aspettando il nuovo modello e soprattutto da che modello di iPhone arrivate e qual è la caratteristica che vi interessa di più del nuovo iPhone. Ma scherzi a parte questo iPhone è sicuramente un pezzo di storia e infatti ho deciso di acquistarlo anche nel formato completamente scomposto di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione se volete acquistarlo anche voi. Ma dicevo il nuovo iPhone 16 Pro apporta diverse migliorie rispetto ai modelli più vecchi. Io attualmente ho un iPhone 14 Pro. Se avete fatto caso dall'inizio del video sto parlando solo di modelli Pro e non di modelli base perché a mio avviso il modello Pro è il modello di riferimento per quello che è l'utilizzo che ne faccio io. Infatti oltre all'utilizzo di telefono che ormai è scontato quello che mi interessa maggiormente in un telefono in questo caso nei modelli di iPhone sono le fotocamere. E nel corso del tempo io dico a partire dall'iPhone 11 Pro in avanti la qualità delle fotocamere è migliorata sempre di più e devo dire che ormai questi dispositivi si sostituiscono alle fotocamere reflex come può essere questa Sony perché come vedete già voi le dimensioni sono nettamente differenti. Questo ce l'abbiamo sempre in tasca perché è anche il nostro telefono mentre questa dobbiamo decidere di portarla con noi, scegliere la lente giusta, portarci magari un microfono esterno. Con questo avremo tutto sempre a disposizione. Come al solito anche l'iPhone 16 arriva in 4 versioni iPhone 16, iPhone 16 Plus un po' più grande, iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max. Parlerò principalmente di iPhone Pro e iPhone Pro Max che hanno una dimensione dello schermo di 6,3 e di 6,9 quindi sono riusciti ancora una volta ad aumentare le dimensioni dello schermo senza variare di troppo le dimensioni del telefono e in questo modo avrai a disposizione un dispositivo con uno schermo ancora più grande perfetto sì per fare foto, per fare video ma soprattutto per consumare quei contenuti quindi per vedere le foto, per rivedere dei video o per vedere i video su YouTube come il mio. Anzi se non sei ancora iscritto iscriviti qua sotto perché porteremo diversi video con l'iPhone e con altri prodotti Apple e quindi se sei interessato a questo argomento iscriviti per non perderteli. Ma continuiamo con le varie novità introdotte nel modello 16 e ti spiego anche perché potrebbe essere l'iPhone giusto da acquistare probabilmente il passaggio al 16 non ti stravolge la vita quella che è la maggior novità cioè l'intelligenza artificiale per il momento in Europa, in Italia non arriva ma per quanto riguarda il comparto fotocamere e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del telefono per fare foto e video viene aggiunto un nuovo tasto su questo lato che è il tasto cattura tasto cattura che non sarà un tasto fisico quindi in rilievo come il tasto che abbiamo attualmente su questo lato ma sarà un tasto capacitivo cioè un tasto in grado di essere appena sfiorato e darci dei feedback per capire quello che stiamo facendo avrà una mezza corsa e una corsa completa per mettere a fuoco e scattare ma inoltre potrà essere utilizzato scorrendo col disto con delle gesture per andare ad esempio a aumentare o diminuire lo zoom direttamente sulla fotocamera e per quanto riguarda le fotocamere avremo sempre le tre fotocamere ma anche la fotocamera grandangolare da 0,5 avrà una qualità di 48 megapixel quindi è stata migliorata anche quella fotocamera in modo tale da avere anche con quella lente la stessa qualità che abbiamo con l'1x mentre invece quello che è il 3x sul mio attuale iPhone 14 Pro diventa un 5x sul 16 Pro 5x che potrebbe sembrare inutile ma in realtà un 5x ottico ci permette di non perdere qualità e avere uno zoom maggiore per magari effettuare delle riprese da mettere poi all'interno dei video che pubblichiamo su YouTube che pubblichiamo sui social o che realizziamo per le nostre vacanze senza dover utilizzare uno zoom digitale che io sconsiglio sempre un consiglio che vi do quando scattate delle foto utilizzate solamente le lenti proposte da iPhone non utilizzate lo zoom ottico perché andrete a perdere di qualità se poi volete fare uno zoom aggiuntivo sull'immagine scattatela ad esempio a 5x e poi eventualmente fate una coppia di quell'immagine e fate uno zoom aggiuntivo tramite il software in modo tale che l'immagine non perda di qualità per quanto riguarda le colorazioni iPhone 16 Pro e Pro Max arriva in 4 colorazioni Silver, Titanio, Nero e Desert Titanio questi sono i 4 colori dell'iPhone 16 che probabilmente verranno proposti a me personalmente il Desert Titanio che è il colore un po' più particolare dei 4 non dispiace se invece volete rimanere sul classico sicuramente gli altri modelli sono perfetti l'iPhone 14 Pro non era ancora in titanio lo era poi l'iPhone 15 Pro il modello invece 16 è nuovamente realizzato in titanio con una finitura differente che non lo rende più opaco ma più lucido almeno questo è quanto dicono le anticipazioni per quanto riguarda il prezzo l'iPhone 16 Pro salvo sorprese di Apple dovrebbe aggirarsi a 1240 mentre il Pro Max a 1290 oltre a queste novità poi ci sono ovviamente tutte le novità che ogni modello di iPhone porta con sé quindi nuovo processore, più potenza di calcolo e velocità nell'eseguire le operazioni più RAM a disposizione, il modello 16 Pro dovrebbe averne fino a 8 giga e poi soprattutto una cosa interessante nel passaggio dal 14 Pro al 16 Pro in mezzo il 15 aveva già introdotto questa novità non abbiamo più il Lightning qua sotto ma abbiamo direttamente l'USB-C è USB-C che non è a 27 Watt ma è a 40 Watt in questo modo il nuovo iPhone 16 Pro si ricaricherà ancora più velocemente grazie proprio ai 40 Watt che accetta la porta di ricarica e se lo utilizzate molto come faccio io per fare video, per fare foto avere una possibilità di ricarica più veloce vi permette di averlo sempre a massime prestazioni anche quando siete in giro io quando vado in giro con l'iPhone per fare diversi video durante la giornata mi porto sempre un power bank di questo tipo che permette la ricarica veloce e in questo modo con questo power bank e l'iPhone ho tutto il necessario per fare tutte le riprese della giornata senza alcun problema un'altra novità che è già stata introdotta dall'iPhone 15 ovviamente presente anche sull'iPhone 16 ed è uno dei motivi per cui faccio il passaggio da questo dispositivo al nuovo modello è la possibilità di collegare tramite la porta USB-C un hard disk esterno in questo modo è molto più semplice scaricare tutti i file è molto più semplice avere un disco esterno dove poter salvare direttamente i file magari quando facciamo delle riprese video soprattutto se utilizziamo molto l'iPhone per fare dei video e in questo modo sarà più veloce anche il nostro flusso di lavoro poi in fase di montaggio video come avete visto da questo video le motivazioni personali per quello che è il mio utilizzo dell'iPhone 14 Pro nel passaggio al nuovo modello sono tante sicuramente non per tutti queste sono le esigenze primarie per me questo è uno strumento di lavoro anche per fare questi video e quindi avere determinate funzioni mi permettono di velocizzarmi sul lavoro per molti invece un iPhone 14 Pro, un iPhone 12 Pro o ancora un iPhone 11 Pro potrebbero essere la soluzione perfetta per acquistare un iPhone comunque di ottimo livello che ci permette di fare ottimi foto e ottime video ma soprattutto ci permette di spendere un terzo di quello che è il costo di un nuovo iPhone fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qua sotto mettete un mi piace per vedere altri video dedicati ai prodotti Apple e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i video sui prodotti Apple che porteremo nei prossimi giorni per questo video con l'arrivo del nuovo iPhone 16 Pro è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da Enrico grazie grazie